Ciao ragazzi sono io Nordicus, oggi un altro di quei video speciali chiamiamoli così cioè che riguardano il mio canale, quei video discorsivi che però non fanno parte né di vita da chitarrista né di altre eventuali serie, di nulla, video scollegati da tutto dunque il titolo di questo video, avvisi, non è casuale ho da anticiparvi 4 notizie, alcune di queste verranno anche ripetute nei prossimi due episodi numero 14 e numero 15 di vita da chitarrista, la mia serie principale per ora quindi aspettate che escano quei video e capirete qualcosina in più di quelle notizie che riguardano quella serie principalmente quindi per altre due, se due su quattro riguardano a vita da chitarrista verranno poi spiegate meglio le altre due invece avranno bisogno del vostro parere quindi avrò bisogno di pubblicare anche almeno uno se non due sondaggi qui su Youtube e magari anche tramite i miei profili social privati Facebook e Instagram che troverete o, c'è il link o, nella descrizione a questo video oppure come primo commento a questo video dunque, la prima notizia sto passando un periodo un po' pieno di impegni un po' stressante e non so se riuscirò a mantenere le pubblicazioni dei miei video almeno quelle che riguardano le mie improvvisazioni e la chitarra uno alla settimana ogni domenica non so se riuscirò sarà più probabile che dovrò prendermi un periodo di pausa una, due, tre settimane, un mese non lo so ancora oppure allargare anzi il periodo che passerà tra un video di questo e il successivo quindi anziché essere uno ogni domenica potrebbe essere uno ogni 15 giorni quindi una sì o una no come avevo già pensato di fare nei giorni scorsi poi però non l'avevo fatto oppure addirittura una volta ogni tre settimane o una volta al mese quindi su su questo pensavo di chiedere il vostro parere quindi cercare il più possibile di mantenere le pubblicazioni regolari dei video alla chitarra intendo quindi uno ogni domenica oppure prendermi un periodo di magari anche un mese un mese e mezzo due mesi non lo so in cui non pubblico però accumulo video per poi ripubblicarli dopo poco alla volta oppure terza opzione al tarno cioè al tarno allargo diciamo il periodo di giorni che ci sono tra un video e l'altro tra una settimana magari due o magari di più di due settimane tra un video e l'altro chiederò il vostro parere anche per questo primo seconda notizia vita da chitarrista avrà una seconda stagione sì come vi ho detto poco fa usciranno ancora due episodi il 14 e il 15 in cui vi spiegherò bene cosa ho in mente per quella serie quindi uscirà l'episodio numero 15 attorno all'11 di febbraio se mi ricordo bene non ho l'agenda dietro non posso andare a leggere però dovrebbe essere attorno sabato 11 febbraio se torna all'11 un sabato comunque e poi per un periodo di qualche settimana non usciranno più episodi di questa serie vita da chitarrista la mia serie riprenderanno uscire col sedicesimo episodio attorno a marzo o aprile addirittura ma non prima di marzo comunque quindi aspettatevi l'episodio 16 terza notizia che sarà approfondita sempre nell'episodio 14 e 15 quindi quando usciranno andatevi a vedere ho in programma una nuova serie in cui assemblo o modifico chitarre elettriche economiche quindi guardatevi questi due episodi in cui quando usciranno in cui darò tutte le indicazioni al riguardo più più specifiche proprio potreste trovare un altro sondaggio però in cui al riguardo di di questa nuova serie nuova serie che vorrei fare oppure un semplice post da commentare se non addirittura commentando direttamente l'episodio 14 e 15 quello se non trovate nel post diretto su questa nuova serie nel sondaggio di sicuro l'episodio 14 e 15 vi diranno di più la quarta notizia è che nei prossimi giorni cercherò anche di valutare se posso registrare qualche video qualcuno dei miei video in altre sedi oltre che nella mia cantina dove sono adesso tipo nella scuola dove vado a lezione di chitarra il baravalle di Fossano fondazione Fossano Musica che ringrazio e saluto oppure in qualche sala prove non lo so dovrò contattare chi di dovere cioè le varie segreterie sia della mia scuola di musica volendo sia delle sale prove come vi dice di qualche sala prove e chiedere se posso andare a filmare laggiù magari anche coinvolgendo qualche ospite o qualche mio amico o comunque qualcun altro quindi le notizie che avevo da darvi sono queste quattro per ora erano queste quattro anzi perché ve l'ho appena detto ricordatevi però il mi piace ai miei video l'iscrizione al mio canale cliccando anche sulla campanellina per rimanere sempre aggiornati con le notifiche e sì magari qualche commentino qualche commento qua e là come già state facendo in tanti quello è vero e di fatti vi ringrazio di questo siete 57 iscritti ad oggi il 14 gennaio siete in 57 iscritti wow ciao ragazzi alla prossima